E allora amici di Jesolo fate un bel applauso per DJ Aladin E allora aspetta che abbiamo un microfono che non funziona Innanzitutto buonasera, benvenuti, ben ritrovati su questa splendida spiaggia La cricca di risofoni Io ho trovato un altro Oh fantastico, DJ Ringo, eccola qua Buonasera Jesolo Ma è sempre così ventilato qua Mi sa di sì Andrea Rocca, un applauso anche Andrea Rocca per DJ Ringo Allora, l'alligra cumbricola di risofoni Che è una sorta di nazionale Scusatemi se uso questo termine Ma siamo in giorni calcistici Quindi nazionale del rock in Italia Loro, a parte lo fanno per lavoro Perché rispettivamente hanno una band, tutti quanti Però quando si riuniscono lo fanno per uno scopo ben preciso Diciamolo subito Assolutamente sì, risofonica Da tanti anni, da prima del 2006 Contribuisce a costruire dei pozzi vitalizi d'acqua in Africa Offriamo da bere a chi ha veramente sete Io so che in Veneto avete molta molta sete Ma in Africa hanno molta più sete E una sete che serve a loro per andare avanti ogni giorno Quindi poi ne parleremo con Mario Riso Vorrei spero subito rompere il ghiaccio con un applauso A questo bel momento di raccolta fondi Da mandare per i bambini in Africa Bene, detto questo iniziamo con il rock and roll Che andiamo sul palco, Andrea? Allora abbiamo un sacco di grandissimi musicisti Hanno da la chitarra? Gianluca Battaglione Huuuu Al basso, Luca Bologna Allora, la chitarra Filippo, dall'Inferno Straight From the Fire Alle voci KGMEN Bele, 여zolo Yeah, one, two Nostro fratello Sacha Eccolo qua Sacha Torrisi Dai ti morire e alla batteria the one and only Mr. Marlowe Marlowe questa è evoluzione vogliamo vedere un po' di casino un po' di mani in aria così un po' di mani in aria running out the club www.rezzofunny.com are we still ready? www.rezzofunny.com si spanno nuovi pezzi sulle mani in aria si parli di quello che non c'è che sta alla condizione siamo in posizione ti senti quello che non c'è il tempo passa e dice che yes man, yes man è il suo ragazzi adesso tutti con la mano così insieme a me tutti, tutti, tutti e ti applica tecnicamente il prossimo obiettivo da raggiungere raggiungo il risultato tutto a posto mentre contro è male a terra c'è chi terra prega spetta e spera più cattivi spera spera dai che cosa vera smetti i soldi poi di tu cellulare pulizie di primavera ti senti aspetto di un umare dove è arrivato un giorno oggi parto è un buon giorno parli di quello che non c'è che strana condizione siamo in posizione il dal fuor basso dice se me ti aspettino non c'è la condizione me lo fate in uno yes no e io che sto cercando di capire in un istante la strana condizione della quale faccio parte e io che sto cercando di capire in un istante la condizione di cui faccio parte dom 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 in a roba dom 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 senti la capa G e con questi non è che significa migliorare neppure uscire vincerti dal processo naturale portano, portano, portano le condizioni puntano i sbagliati yes o ci sei parli di quello che non c'è che strana condizione sapone e produzione tu sai di quello che non c'è welcome to the evolution il tempo fa la sedicelle yes ormai farà che non c'è noticelle grazie a tutti